Saluti da Sandro 30 aprile 2022. Vi faccio questa ripresa oggi dalla zona di Chiavenna, qui siamo in località Fratta Camportaccio. Vi faccio vedere le montagne ancora innevate, il cielo un po' nuvoloso ma ha smesso di piovere. Qui siamo all'ingresso del piazzale del supermercato Iperal di Prata Camportaccio. Queste le montagne verso la Val di lei. Ciao da Sandro.